Musica Benvenuti gentili telespettatori da Honor News, il notiziario regionale curato dalla redazione di UTVRS. Apriamo con una brutta storia che ci arriva dal Fermano. Gli arresti domiciliari sono stati disposti nei confronti di una persona accusata di violenze fisiche, psicologiche e sessuali sulla giovane compagna, oggetto anche di una continua persecuzione a casa, sul posto di lavoro e per strada. Secondo quanto avrebbero accertato gli investigatori, l'uomo avrebbe anche impedito alla ragazza qualsiasi relazione sociale e l'avrebbe anche picchiata durante furiosi litigi anche per il solo fatto di essere uscita a comprare le sigarette. La giovane sarebbe stata oggetto anche di ricatti psicologici per indurla ad avere rapporti sessuali. Alla ragazza è stata garantita la tutela prevista dalle norme con assistenza psicologica e fisica. Fingendo di raccogliere rifiuti nella zona industriale Brodolini a Loreto, un operatore ecologico si prendeva invece cura di una piantagione di marijuana. Dopo alcuni sopralluoghi, gli agenti del commissariato di polizia di Osimo hanno sorpreso l'uomo, 38 anni, residente nella zona, mentre all'alba si addentrava in campagna e annaffiava le piante utilizzando l'acqua di due bidoni che si era portato al seguito. Gli agenti lo hanno arrestato sequestrando 10 kg complessivi di stupefacente. Ed apriamo la serie di servizi con l'allarmante ormai fenomeno della vera e propria strage di patenti nei fine settimana. I dettagli. 53 patenti ritirate, di cui addirittura 49 per guida sotto l'effetto di alcol, per un totale di circa 250 dall'inizio dell'anno. Ed inoltre un uomo è stato denunciato dopo essere fuggito per due volte all'alte della polizia. Questo è il bilancio dell'ultimo fine settimana di controlli in provincia di Macerata. Ormai è uno stilicidio continuo, senza contare i 649 punti che sono stati decurtati dalle patenti di guida. Più del 40% è stato detto nel corso di un incontro con la stampa delle persone che sottoponiamo ai test. Risulta positivo alla droga. Alcuni assumono marijuana e cocaina per bilanciarne gli effetti. Dati ovviamente preoccupanti con soprattutto la mancata percezione del pericolo che si crea per gli assuntori e per gli altri. Se si amplia il discorso alle marche arriviamo a più di 500 patenti ritirate in appena 8 mesi. Moltissimi arrivano sulla costa per trascorrere il fine settimana da altre zone, in particolare da Perugia. Con questo ritmo si rischia di sfondare quota mille per fine anno e non è un primato di cui andar fieri. Un tunisino di 52 anni, risultato poi destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura dell'Aquila, aveva addosso un coltello in acciaio di 35 centimetri con una lama di 23, violando anche le norme contro il rapporto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato fermato dagli agenti della squadra mobile di Ancona durante uno dei controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori. Mentre si spostava a piedi sulla Flaminia, l'uomo è stato trasferito nel carcere anconetano di Montacuta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Momenti di grande paura questa mattina per una famiglia originaria di Pisa che si trovava a bordo della propria auto lungo la provinciale che collega Amandola a Sarnano. L'uomo al volante del mezzo ha perso il controllo lungo una discesa con il veicolo che è finito fuori strada. A bordo c'erano anche la moglie e il figlioletto di appena un mese di vita. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provveduto al trasporto del neonato e del padre presso l'ospedale di Fermo, mentre la donna è stata trasferita in elieambulanza a Torrette. Si sta ormai attenuando l'ondata di maltempo che ieri e oggi ha colpito anche la nostra regione. Piogge intense, vento forte con numerosi interventi dei vigili del fuoco. In uno di questi, nei pressi di Pergola, un'auto è stata trainata fuori dal fango con il verricello temporale violento nel senigalliese, in particolare a Trecastelli con un piccolo rogo scoppiato a seguito di un fulmine che ha colpito un quadro elettrico in prossimità della rimessa dei mezzi comunali. Regione, Agenzia Sanitaria ed Associazione dei Diabetici hanno firmato ieri un protocollo per favorire la pratica sportiva per chi soffre di questa patologia che colpisce quasi il 6% della popolazione marchigiana. Il servizio è di Manoli Tascocco. Prevenzione e contrasto del diabete attraverso lo sport è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo Raffaello dalla Regione Marche, dall'Agenzia Regionale Sanitaria e dall'Associazione Tutela Diabetici Marchigiani. Verranno promosse iniziative sperimentali di promozione della pratica sportiva incentrate sui campi scuola di educazione terapeutica e gruppi di cammino, entrambi riservati agli adulti diabetici. Tutti gli enti collaboreranno per promuovere la pratica sportiva e i suoi valori nelle persone affette da diabete puntando a ridurre, attraverso l'attività motoria, i fattori di rischio come l'obesità. Alimentazione e cammino fanno parte integrante della terapia antidiabetica. L'attività motoria non agonistica e una corretta alimentazione migliorano lo stato di salute. Il protocollo rappresenta uno schema di riferimento per le iniziative territoriali e saranno le associazioni di Fano e Pesaro che partiranno subito con un proprio progetto. Alla conferenza è intervenuta anche Rosa Anna Rabini responsabile Dipartimento Diabetologia Regionale che ha ricordato come il diabete colpisca il 5,9% dei marchigiani mentre il 4% è a rischio di sviluppare la malattia. È importante mutare l'approccio alla patologia curando di più gli stili di vita. Le Marche sono l'unica regione in Italia con un database unico regionale cartella clinica comune per tutti i centri diabetologici. Dispone di dati certi e puliti raccolti attraverso i 15 centri per adulti e uno pediatrico al Salesi di Ancona. Nel 2018 sono stati visitati 63.854 pazienti tra diabete tipo 2, 48.508, tipo 1, 2.973, gestazionale, 1.673, di altri tipi, 1.747 e a rischio di diabete 8.953. E tornando per un attimo alle conseguenze del maltempo, dando applicazione all'ordinanza preventiva gestionale sull'inquinamento marino di breve durata provocato da sversamenti reflui su acque di balneazione, il comune di Ancona ha disposto il divieto temporaneo appunto di balneazione nel tratto di spiaggia libera dal porticciolo di Torrette fino al passetto sotto la piscina. Il comune precisa in una nota che è in atto un progetto condiviso dai comuni di Ancone e Falconara relativo ad un intervento complessivo per contenere ed eliminare gli sversamenti. In occasione del centenario della nascita di Fausto Coppi sabato prossimo alle 16 si inaugura nella Sala Laurana di Palazzo Ducale di Pesaro la mostra 100 anni di Coppi, Pesaro città della bicicletta, celebra dunque le mitiche gesta del grande campione del pedale con una esposizione di bici d'epoca dagli anni 40 agli anni 50, periodo in cui Coppi insieme a Gino Bartali appassionava i cuori degli sportivi di tutto il mondo. L'esposizione con ingresso gratuito sarà visitabile sino al 29 settembre. Spettacolo e cultura con tantissimi personaggi a Sirolo per la serata conclusiva del premio Enriquez. Sentiamo Mario Giannini. Venerdì 30 agosto a Sirolo presso il Teatro Cortesi il presidente del Centro Studi Franco Enriquez ha proposto la quindicesima edizione del premio Enriquez. Una magnifica serata dove si respira ogni volta un'aria di cultura ampia e libera. Una carrellata di emozioni legate ai grandi artisti premiati nel ricordo del regista che aveva scelto Sirolo da Erika Rigamonti fino alla PFM, band regina del rock progressivo italiano, passando per Rosalina Neri, solo per citarne alcuni. Tra gli ospiti anche il bionista osimano Marco Santini che ha eseguito magistralmente il suo Cristo delle Marche. Nella categoria Opera Lirica, sezione Grandi Interpreti, premio al tenore di fama mondiale Fabio Armigliato e dalla memoria del soprano Daniela Dessì. Armigliato ha eseguito l'infinito di Giacomo Leopardi, musicato da Giovanni Nuti. Ben 16 i riconoscimenti da Rosalina Neri per il premio alla carriera, a Bruno Fornasari, Federica Di Martino, Emilio Russo, Luigi Tabita, Francesco Bruni, Tommaso Ragno, Umberto Angelini, Antonello Persico, Beppe Gambetta. Abbiamo già detto del premio particolare per il settore della musica e la PFM e un premio particolare anche al fotografo di spettacoli teatrali, Tommaso Lepera, premiato da Gabriele Lavia, che era in sala in incognito, ma grande amico del fotografo Lepera. Per il settore pubblicazioni e editoria, per il teatro, premio alla casa editrice Manfredi. Altro premio speciale per la categoria associazioni, fondazioni Ollus, comunicazione di impegno sociale e civile a Crown Doc di Pescara. Siamo alla pagina sportiva che apriamo con il calcio, dunque ieri si è chiusa la sessione estiva del mercato. Come preannunciato, molto attivo Lascoli, che ha ufficializzato Padoina, acquistato in prestito il difensore centrale ex Pescara e Sassuolo Gravillon, e perfezionato lo scambio dei portieri con il Perugia, fu lignati le ali, con quest'ultimo quindi che approda al club bianconero. In extremis l'attaccante Davide Di Francesco è stato temporaneamente trasferito al Fano, scatenata la fermana con il colpo Tomi Maestrello, punta centrale proveniente dal Monopoli, 26 anni nella scorsa stagione al Vicenza, e l'arrivo di un altro attaccante Rolfini dal Carpi. Inoltre lo scambio con il Teramo Valentini Persia, che dunque approda in giallo-blu alla corte di mister Flavio Destro, che potrà contare anche sul portiere gemello dal Torino. E restando in Serie C, primi punti in campionato per la Vispesaro, che nel posticipo di ieri sera è andata a vincere 2-1, in rimonta sul campo del Cesena. Impresa della Vispesaro, che nel posticipo di Serie C sbanca il Manuzzi, costringendo il Cesena al secondo K.O. consecutivo. Quanto sia stata grande l'impresa, lo dirà solo il proseguo della stagione, la forza di Romagnoli, tutta comunque da dimostrare. Di certi ragazzi di mister Pavanna hanno mostrato gli attributi, ribaltando nel giro di due minuti una gara che inizialmente si stava mettendo subito male. Infatti, allo scoccare del quarto d'ora, dopo una zuccata di Brignani di poco alta su azione di corner, Bianchini controlla in modo maldestro un retropassaggio e si fa soffiare il pallone da Borello, stendendolo in area. Rigore netto, procurato ma non segnato dal 28 bianconero, col portiere ospite che si butta a sinistra e para, rimediando al suo errore. Nulla può però al 32esimo, quando sempre dalla bandierina la palla arriva a Brignani, colpo di testa e miracolo dell'estremo difensore, ma arriva Butic, il cui sinistro si insacca, e manda in vantaggio un Cesena poco tranquillo, dopo l'errore dal dischetto. La vispesa non nel primo tempo non va oltre una fiacca e centrale, conclusione dai 16 metri di Ejaki, ben liberato dal velo di Grandolfo. I bianconeri nella ripresa sfiorano il 2-0 in un paio di occasioni attorno all'ora di gioco, Bianchini arriva con la punta delle dita su un fendente di Franco, poco dopo Franchini mette forte in mezzo, ma Butic, da posizione defilatissima, trova solo l'esterno della rete. Tra il settantesimo ed il settantaduesimo, ecco il ribaltone. Su una punizione contestata per la visse, la palla arriva a Farabegoli, il cui destro trova la sfortunata e decisiva deviazione di Butic, che infila la propria porta. Un minuto dopo, un altro bolide di Franco viene alzato in corner, ma dalla bandierina il Cesena prende una clamorosa infilata in contropiede, lancio di Ejaki per Voltan, che passa in mezzo a due, e battagliardi a tu per tu. Non si può nemmeno parlare di forze in finale dei padroni di casa, la visse è in controllo e si aggiudica meritatamente i primi tre punti stagionali, ossigeno puro per la classifica. Parte la stagione ufficiale della Serie A2 di basket, domenica esordio per la XL Extra Light Monteranaro nella Supercoppa. I ragazzi di coach Franco Ciani, reduci dal successo nel torneo di Fabriano, affronteranno alle 18 al Palasavelli di Porto San Giorgio l'Allianz San Severo. Ingresso gratuito, lo ricordiamo ancora, per chi avrà sottoscritto la tessera di abbonamento. Ed andiamo ora a vedere le previsioni meteo per mercoledì 4 settembre. Venti più freschi e secchi dai quadranti settentrionali puliscono il cielo su gran parte delle regioni. Solamente al sud l'instabilità sarà ancora diffusa. Spostiamoci ora al centro, su tutte le regioni avremo condizioni di bel tempo prevalente, con un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 13 gradi e non supereranno i 24 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 29 gradi al nord, fino a 30 al centro e punte di 31 gradi sulle regioni meridionali. Macerata, Ronchi dei legionari, Collecchio e Nettuno 2. La Serie A2 di baseball ha scelto le quattro formazioni che dal prossimo fine settimana daranno vita alle semifinali promozione. La sorpresa dei quarti di finale è sicuramente la compagine marchigiana che ha eliminato il bollate dalla volata per la 1, grazie ad una strepitosa gara 3 nella quale i ragazzi di Francesco Aluffi hanno messo a segno qualcosa come ben 24 valide. nel prossimo weekend della semifinale contro la compagine del Nettuno 2 in casa. Bene è tutto con il nostro telegiornale, grazie per la cortesa attenzione e appuntamento a domani.